benvenuti nel sito di netlife srl www.netlifesrl.com società di comunicazione e formazione nell'era del digitale ho fondato netlife srl nel 2000 e come suggerisce il nome un po' di rete nella vita e un po' di vita nella rete all'epoca raccontava l'opportunità di sfruttare il web nell'ambito della comunicazione e della formazione e ancora oggi mantiene questa caratteristica ancora di più oggi sfruttando quell'omnicanalità quella complementarietà tra online e offline che contraddistingue il mercato contemporaneo oggi netlife srl a 19 anni di distanza e soprattutto di esperienza è una società di comunicazione e formazione con una duplice anima da una parte un laboratorio di ricerca e sperimentazione netlife lab che accompagna la società da sempre nell'attività di ricerca e sviluppo di nuovi servizi di nuovi prodotti e soprattutto porta con sé questo retaggio accademico che che mi appartiene che mi rappresenta